Buongiorno a tutti da Livigno, dove sembra che da qualche giorno sia tornato l'inverno. Le temperature di questi giorni infatti sono nuovamente scese sotto lo zero e le condizioni di neve nella parte superiore della schiarea sono ancora molto buone. Per la settimana prossima è in arrivo di nuovo del bel tempo. Il sole infatti sarà protagonista delle giornate della settimana prossima e le temperature si alzeranno almeno fino ai 10 gradi sopra lo zero. Le calde temperature dei giorni scorsi ci hanno costretti a chiudere alcuni degli impianti a Fondovalle. Al momento rimangono disponibili il campo scuola numero 23, la scio via DOS e il campo scuola San Rocco, mentre l'impianto numero 30 Cassana rimane aperto come arroccamento per raggiungere invece l'impianto numero 27 Taglie de Costaccia. Per l'appuntamento di oggi, anziché portarvi presso uno dei nostri impianti di risalita, ho deciso di portarvi alla scoperta di uno degli eventi più importanti di tutta la stagione sciistica e invernale di Livigno, il Free Heel Fest, che ormai da 16 anni Livigno dedica alla disciplina del telemark, ossia lo sci a tallone libero. Una settimana di appuntamenti, di feste, di escursioni, tutto per stare in compagnia e in mezzo alla natura. Per oggi l'appuntamento è con la Transumanza. Siamo alla prima tappa di questa Transumanza e siamo in compagnia di... Niccolò. Niccolò, è il tuo primo anno al Free Heel Festival? Sì, è il primo anno qui alla Schieda, una manifestazione incredibile, piena di eventi, organizzata veramente bene. Noi siamo venuti dalle Dolomiti, un posto abbastanza lontano in linea d'aria, ma molto vicino come mentalità, sempre montagna e sempre bellissimi posti. Quindi è da tutta la settimana che segui gli appuntamenti? È da tutta la settimana che seguo gli appuntamenti, veramente un'organizzazione ineccepibile. Consiglio a tutti gli appassionati e amanti della montagna di venire qui a Livigno a divertirsi in questa settimana incredibile e spettacolare. Perciò la raccomandiamo a tutti voi che ci stanno seguendo. La raccomandiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo, anche per chi non è proprio ultra esperto di sci. È veramente una settimana piena di cose da fare per tutti. Perfetto, allora ci rivediamo il prossimo anno alla schieda. Sicuramente ci vediamo il prossimo anno. L'appuntamento da non perdere per la settimana in arrivo è Didi Drezza, che si terrà domenica 17 aprile presso l'impianto numero 25 Livigno Tagliere. Il vostro compito, se sarete fra i partecipanti, è quello di riuscire ad attraversare sugli sci, sullo snowboard o su un qualunque altro mezzo a vostro piacere, un'enorme piscina senza cadervi. Solo così potrete essere i vincitori. Prendetevi parte anche solo come pubblico. Il divertimento lì è davvero assicurato. E anche per oggi è tutto. Ci rivediamo la settimana prossima, sempre su schipaslivigno.com Ciao!